Vedi, il signor Aganetsuka è un tipo sanguigno. Capisco. Io mi chiamo Kanamori. Ho forgiato le spade del nobile Inosuke. Sono belle. Il grigio indaco che riflette la luce è un colore elegante. Uno splendido colore per delle spade. Sono splendide. Prima le spade di Inosuke erano danneggiate. Devo confessare che è la prima volta che mi cimento con due lame gemelle. Nobile Inosuke. Bene. Io ti ammazzo, moccioso! Mi stai prendendo in giro! Mi stai prendendo in giro, forse è fake! Maledetto! Non posso! Non la faccio! Ti ammazzo con le mie mani! È inammissibile. Non puoi esistere uno così. Rompere una spada con una pietra non esiste!